Va bene, allora io sono Pietro Polsinelli e volevo parlarvi appunto un po' dell'uso di sostanzialmente videogiochi per finalità di comunicazione e promozione. È un tema purtroppo assai complesso, per cui vi darò un overview, poi ovviamente nelle slide troverete tante occasioni di approfondimento e se si vuole affrontare questo tema l'approfondimento direi che è necessario. Allora, sicuramente l'utilizzo di videogiochi per la comunicazione è una grande opportunità, una grande opportunità perché? Perché quando funzionano funzionano molto bene, ok? Sono chiaramente un media che sta maturando tanto, che diciamo ha raggiunto ormai cross-generazionale, raggiunge un pubblico sempre più ampio, è un media sempre più comune, meno selettivo, che ovviamente poi come saprete ha un giro di business che ormai umilia tutti gli altri. Quindi, appunto, però che cosa si intende per giochi applicati, ok? Perché il termine gioco e videogioco sono dei termini molto ambigui e diciamo si sono tentate tante definizioni del termine di gioco applicato, in che cosa si distingue da un gioco che è un videogioco appunto commerciale. In realtà nessuna definizione può definirlo esattamente, perché quando si pensa diciamo che è un gioco applicato a un gioco che ha finalità, per esempio, non di pure entertainment, quindi non è soltanto per divertimento, il punto è che qualunque media, quando matura, esprime anche nei propri prodotti commerciali finalità che non sono di pure entertainment, ok? Questa evoluzione accade, è scasso accaduto nel cinema, nei film, nei fumetti, eccetera. E la stessa cosa nei videogiochi, ormai i videogiochi non è che trattano solo temi superficiali o sciocchi, anzi, tutt'altro, giochi commerciali hanno plot narrativa estremamente raffinate, evolute e trattano temi serissimi. Per cui il fatto del videogiocare, diciamo, del non essere serio, soltanto chi veramente non sa di cosa sta parlando, pensa che sono due cose che si sovrappongono. Però nel caso dei giochi applicati, almeno nel caso e nei sample case, nei casi che vi presento e quelli su cui lavoro, sicuramente sono uno strumento utilizzato per parlare di complessità, per rendere il discorso sulla complessità più accessibile. Ecco, una cosa, spesso quando si parla con persone, diciamo, con clienti, anche del marketing, clienti di aziende, istituzioni, eccetera, che ci si avvicina a questo tema, c'è una grande confusione. Ci sarebbero stati due schemi, ma, diciamo, che io vi riassumo, che sono semplicemente il fatto che, quando si parla di videogioco, non si intende semplicemente un'applicazione interattiva, ok? Cioè, bisogna fare un po' di distinzioni. Cioè, il fatto che, per esempio, si presenta, non so, una forma animata online, questo non è un videogioco di per sé. Cioè, il fatto di avere contenuti ludici o interattivi, non costruiscono di per sé un gioco. Un gioco ha un meccanismo, un videogioco ha un meccanismo di feedback, delle regole, ok? Quando ci sono delle regole, delle interazioni, che fanno sì che, diciamo, il tipo di interazione cambia, questo è ciò di cui io vi sto parlando più propriamente un videogioco. Per esempio, spesso i videogiochi vengono confusi con i giocattoli digitali, per esempio. Questo soprattutto, appunto, quando ci si avvicina a fare lavori con i giochi applicati. Perché? Perché le persone, diciamo, che si occupano di domini complessi, spesso confondono i videogiochi con le simulazioni, emulazioni, infografiche, ok? Quindi, diciamo, con quelli che più propriamente si chiamano giocattoli, ok? Cioè, i giocattoli, tipo, un classico esempio per capirsi, Minecraft. Minecraft non è un videogioco, è un giocattolo, ok? C'è un qualcosa che si può ricombinare in modo arbitrario per costruire cose. Non ci sono regole, non c'è un'evoluzione, non c'è una narrativa, ok? Ecco, io invece parlo proprio di videogiochi, videogiochi, videogiochi in senso proprio. Anche se le tecniche di costruzione, di sviluppo e di definizione dei videogiochi possono essere usate in un spettro più ampio di applicazioni. L'importante non è che alcuni vanno bene o non vanno bene. Bisogna esserne consapevoli, altrimenti quando si parla, quando si definisce un progetto con il museo, con l'istituto di ricerca, con la corporation che dovete promuovere, non ci si capisce, ok? Diciamo, il termine gioco educativo, diciamo, nell'ambito del game design, non ha una bellissima nomea, perché, diciamo, i primi anni di giochi educativi sono quelli, diciamo, dei prodotti multimediali che si sono spesso rivelati non molto efficaci e, diciamo, per molte persone il termine gioco educativo evoca delle applicazioni sostanzialmente brutte e poco educative, ok? Cioè, fatte in modo non interessante. Però questo non è più così, diciamo, soprattutto con l'espandersi del mercato mobile, si sono alzati moltissimi gli standard, diciamo, e per fortuna anche nell'ambito educativo si usano sostanzialmente gli stessi criteri di sviluppo che si usano nei videogiochi commerciali, ok? E poi ci sono tante caratteristiche dell'impianto dei giochi applicativi che li possono rendere, che possono facilitare la costruzione di un prodotto di qualità, ok? Che, per chi, appunto, come me, lavora sia in ambito commerciale che in ambito, appunto, di giochi con finalità, diciamo, di promozione, di insegnamento mi sono reso conto nel tempo che ci sono delle caratteristiche che sono intrinseche al gioco promozionale che sono, per esempio, le qualità profonde del prodotto o, per esempio, della, non lo so, della ricerca sul riscaldamento globale. Ecco, vi chiede un istituto di ricerca, come mi è successo, vi chiede di sviluppare un gioco sul riscaldamento globale. Un vantaggio che avete, appunto, che non è che sia un tema allegrissimo di per sé, va bene? Ma questo non è importante. Però, magari, vi chiede... Innanzitutto, loro, prima cosa, mi hanno chiesto, ovviamente, di fare un simulatore che è una pessima idea per avvicinare il pubblico a questo tema, essendo scienziati. Però, un vantaggio che si ha lavorando su questo tipo di tematiche con i videogiochi è il fatto che il tema stesso, per esempio, il tema del riscaldamento globale, è un tema che ha una grande profondità. Quindi, questa profondità, poi, sebbene lavorata, è trasformata in caratteristiche dell'esperienza di gioco, poi viene percepita dal giocatore, ok? Quindi viene percepita come qualità del prodotto finale. Questo, per esempio, invece, è un problema con i giochi commerciali. Perché quando si fa un gioco sugli zombie, diciamo, ormai il nostro gusto si è raffinato e quindi, se non c'è una profondità di idea, di storytelling, di esperienza, il gioco risulta brutto. Ecco, poi, diciamo, già nelle poche cose che ho detto, vi sto trascinando, diciamo, all'interno di una prospettiva, di una visione sull'uso dei giochi per la comunicazione, che è una prospettiva particolare, diciamo, nel senso che ci sono più o meno due mode di trattare questo tema. Ed è, appunto, uno, quello di cui vi sto parlando io, in cui, appunto, il gioco è un mezzo come un altro, ma, diciamo, non è una tecnica universale. Cioè, ogni gioco viene, quando si deve affrontare un tema, viene costruito in modo artigianale e custom, totalmente vestendo il tema di cui si sta parlando. Un po' come fare, appunto, un video, anche se le tecniche sono completamente diverse. Ma, invece, ci sono altri che, diciamo, trattano il tema dell'uso delle tecniche videoludiche in senso, diciamo, di più orientata al rewarding, quindi come qualcosa di universale che si può applicare sostanzialmente a qualsiasi tema. Un po' l'idea che tutto possa essere gioco. Questi sono due approcci molto diversi e io vi parlerò esclusivamente del primo. Questo si vede, per esempio, per esempio, una delle iniziative che, diciamo, sta girando in Italia sul rapporto tra giochi e eredità culturale, in cui, appunto, anche qui ci sono due approcci. Cioè, ci deve essere l'approccio in cui, sostanzialmente, l'opera d'arte è inserita come sfondi, come contesto di ambientazione in un videogioco che ha tutta una sua meccanica e tutta una sua logica. Oppure, come questi sono alcuni lavori che ho fatto io con il, qui è proprio a Firenze, al Museo dell'Opera del Duomo, in cui, invece, abbiamo profondamente integrato non solo l'estetica, diciamo, dell'artista, ma anche le intenzioni. Quindi cercando di costruire un gioco che, diciamo, dia proprio l'esperienza delle opere d'arte originali costruita progressivamente all'interno del gioco stesso. Appunto, questi sono dei grandi vantaggi di questo modo di trattare il tema, perché si ha una sensazione di profondità. E qui si possono usare non soltanto, diciamo, il digitale, ma si può benissimo. Questa è una cosa che ho scoperto, io pensavo che, diciamo, il disegnare digitale, il disegnare invece il gioco in altre forme, giochi da tavola, eccetera, fossero... Sicuramente ci sono delle diversità, però gli skill che si acquisiscono sono molto simili ed è possibile passare da un media all'altro con lo stesso prodotto, se il prodotto ha della qualità. Un'altra cosa interessante del lavorare sui giochi, diciamo, usati in ambito applicato è che si sviluppa una particolare sensibilità per i temi dell'inclusività, perché, appunto, se si vuole rivolgersi a un pubblico molto vasto, bisogna stare attenti a non, per esempio, fare slide illegibili come questa. Ecco, per esempio. Bene. Un, diciamo, ora... Diciamo, il tempo è veramente breve, per cui, però, vorrei darvi semplicemente un accenno, questo è un tema che, appunto, potete poi approfondire, su qual è la filosofia che, diciamo, può guidare lo sviluppo di un videogioco che insegna qualcosa in modo interessante, è l'idea di connettività diegetica, cioè che tutti gli aspetti del gioco diciamo, riflettono, questo è l'articolo a cui faccio riferimento, che, appunto, non posso approfondire, però, che tutti gli aspetti del gioco diciamo, sono legati al tema che si vuole esprimere. Anche, non lo so, il punteggio, anche la schermata di introduzione, anche quelle che si chiamano in between scene, cioè tra una partita e l'altra, tra un gioco e l'altro, tra un tentativo fallito e l'altro, tutto, diciamo, cercate di integrarlo con quello che volete esprimere, che sia, appunto, consapevolezza sul riscaldamento globale oppure sulla estetica del 1300. Bene, questo è quello che vi ho appena detto. E, per esempio, questo se fate un gioco in cui c'è una fisica, potete, appunto, diciamo, questo è, per esempio, simile a quello che si fa nei cartoni animati o nei fumetti, quando ci sono eventi fisici, vengono sempre rappresentati visualmente, quindi queste rappresentare con tecniche visuali le metriche e le informazioni numeriche, quindi non trasmettere in forma testuale o numerica, ma trasmettere in forma di animazione e immagini. Bene. Ok. L'altro tema fondamentale, diciamo che a volte si oscura un po', è nell'uso, appunto, di un media di questo tipo per trattare un tema, è il rapporto con l'apprendimento. Cioè, perché, anche perché la fascinazione del gioco sta spesso nel fatto che, diciamo, nei giochi c'è questo fenomeno della progressione, cioè del raffinarsi di uno skill per provare i suoi, ok? Che è proprio, diciamo, il modello opposto della didattica tradizionale, cioè la nozione dell'esame, ok? Che o si passa o non si passa. Nel giocare, in genere, si può provare, riprovare, provare e riprovare, ok? Non solo, un'altra cosa interessante dal punto di vista didattico, è il fatto che sostanzialmente nel gioco più io imparo, più raffino il mio skill, più il gioco diventa complesso, ok? Quindi c'è una forma di adattamento reciproco tra il mio raffinare gli skill giocando e l'esperienza che il gioco mi fornisce, ok? C'è questo avanzamento, questo si chiama appunto the flow, quando un gioco è fatto bene è perché non è mai né troppo facile né troppo difficile. Se questa è una tipica metafora che fa scattare, dice, ah, ma l'apprendimento potrebbe essere proprio questo, cioè una didattica efficace, in cui sostanzialmente, diciamo, ciò che mi viene posto diventa di una complessità che si lega al mio livello di skill corrente e quindi si possono implementare tecniche tipo appunto no opt out, cioè nessuno è lasciato fuori, perché sostanzialmente lo strumento di insegnamento si adatta alla vostra esperienza. Appunto, bisogna, per maturare un po' il proprio rapporto su questo tema, bisogna un po' spostare il focus dal problema del fun, del divertimento, che per chi, diciamo, che ha esperienza di game design sa benissimo che non è sul divertimento che si costruisce un gioco, perché un gioco ben costruito, noiosissimo, si può trasformare in un gioco divertente. Questo si può sempre fare perché è più una questione di dettagli, di usabilità, effetti, game feel, ma se la meccanica su cui è costruito di profondamente il gioco non funziona, questo non può succedere. Ecco, per l'apprendimento, quindi regolare il gioco con l'apprendimento è sempre un gran problema. Vi faccio un esempio. Cioè, sostanzialmente, mi è successo di entrare in diversi progetti che sostanzialmente stavano fallendo, perché che cosa, come si era affrontato il problema dell'apprendimento? Si era affrontato prendendo un gioco esistente, tipo, e cambiando i testi e gli sfondi. Cioè, sostanzialmente, ciò che, invece di inserire il processo di apprendimento all'interno del gameplay, lo si è fatto, diciamo, mettendolo come un qualcosa di accessorio, di laterale, ma che tipicamente è qualcosa che infastidisce il giocatore, ok? Quindi questi sono due approcci profondamente diversi. Una cosa è mettere il tema di cui ti vuoi occupare come modellato nella meccanica stessa del gioco. Un'altra cosa è metterlo come una decorazione di un gioco esistente. Ecco, nel secondo caso non funziona. In realtà, spesso non funziona neanche nel primo caso. Cioè, perché questo è un fenomeno studiato. Cioè, se, diciamo, per esempio, il mio gioco è, voglio insegnare l'aritmetica di base e io metto le somme, di fare somme nel mio gioco, questo, il fatto di fare somme nel mio gioco non insegna molto a livello di acquisizione della comprensione di come funzionano le somme. Mi dà semplicemente una rapidità combinatoria nel risolvere il problema. Ma il focus dell'apprendimento per chi conosce bene i processi di apprendimento non è mai soltanto la capacità combinatoria, ma è sempre la riflessione a posteriore su quello che sta succedendo. Quindi, diciamo, il processo, appunto, non posso entrare, non ho il tempo di entrare in tanti dettagli, però pensate che quando voi volete trasmettere una conoscenza oppure far avvicinare un sapere con un modello di questo genere, dovete sempre pensare multidimensionalmente, cioè all'esperienza che state facendo, all'esperienza che si fa tra una partita e l'altra, all'esperienza che si fa quando si sbaglia, si perde, si ricomincia. Questi momenti, ok, sono molto importanti. Questa è una cosa che per esempio potete approfondire non tanto studiando i videogiochi, ma studiando chi insegna le tecniche di insegnamento in classe. Le tecniche di insegnamento in classe sanno benissimo chi le studia, che i momenti di interazione con gli studenti prima, dopo, nella lezione, nelle pause, sono importantissimi per motivare le persone. Ed è importantissimo per esempio trattare un tema più volte. Questa è un'altra cosa che spesso quando si progettano i videogiochi non si tiene conto. cioè il fatto di poter presentare per esempio nel gioco lo stesso tema da prospettive diverse può risultare estremamente efficace. Quindi diciamo la sostanza di quello che vi ho detto finora è che c'è una grande complessità, ok, cioè lo strumento è potente, ok, però se vogliamo che sia efficace dovete agire su tante dimensioni. Questo fa sì che diciamo non sia sviluppare videogiochi appunto con finalità di comunicazione per avvicinare a temi complessi che sia consapevolezza sociale che sia appunto promuovere la qualità di un brand promuovere un'istituzione appunto un museo non è una cosa da prendere sotto gamba diciamo non è come appunto anche questo ha la sua complessità sviluppare delle pagine web per presentare la tematica siamo a un ordine di complessità diverso ok va bene quindi appunto questi sono approfondimenti sul processo di apprendimento in cui sostanzialmente si tiene conto della diciamo della complessità del processo e su cui c'è tutta una ricerca che appunto trovate qui linkata che potete approfondire ma su cui non voglio entrare più di tanto va bene questo ora per ora lasciamo un attimo vi ho parlato anche del fatto dell'usare in meeting spaces su cui ci sono appunto miei iscritti e diciamo sui modelli che ci sono in scienze cognitive su come approfondire i processi di apprendimento ma arriviamo abbiamo stabilito che il processo non è banale ok è complesso anche da un punto di vista produttivo ok perché è complesso dal punto di vista produttivo perché il gioco il videogioco è tipicamente appunto multidimensionale cioè non è un qualcosa non è puramente testuale ha tanti problemi tecnologici perché ha bisogno appunto per l'inclusività se volete per esempio fare uno strumento di promozione arrivare a tanti audience quindi dovete per esempio pensare a una tecnologia che sia per esempio usabile su vecchi device mobile che sia usabile su browser sia usabile su desktop magari come mi è successo volete che un gioco sia sì scaricabile alle persone ma sia usabile in un contesto tipo questo in un evento promozionale quindi diciamo deve essere leggibile visibile e interagibile su un proiettore oppure fate un gioco da usare nelle scuole sì i ragazzi possono averlo sul loro device magari la cosa più interessante scoprite è quando il gioco viene proiettato in aula e tutti giocano insieme perché spesso i videogiochi vengono c'è questo un po' un luogo comune il videogioco come il gioco solitario però invece sapete chi conosce un po' il tema il gioco è una grande occasione di socialità può essere una grande occasione di socialità e la mia esperienza dell'uso del videogioco in classe per un gioco collettivo è una cosa che funziona in modo straordinario in classe oppure un'altra esperienza che ho fatta che è quella che poi spero di arrivare a presentarvi è come appunto uno strumento di promozione dell'azienda ok facendo eventi però appunto il problema è data la complessità diciamo sia tecnologica che proprio intrinseca del media stesso è ridurre il rischio beh innanzitutto già la consapevolezza del rischio è un fattore di riduzione del rischio ok quindi sapere queste cose non fare richieste strane o assurde rendersi conto che non è che gli sviluppatori si stanno inventando le cose è veramente un tema da affrontare con grande cautela ecco oltre ad essere complesso funzionano i giochi i giochi educativi e promozionali raramente diciamo non funzionano sempre questo perché appunto oltre a tutto non basta la consapevolezza di cui vi ho parlato finora della complessità del rischio di produzione del fatto che non si non si fa in una settimana ma il problema fondamentale è sostanzialmente non funzionano quando si spera in un miracolo cioè sostanzialmente concentriamo il nostro effort sulla produzione del videogioco stesso ok e non allochiamo altrettante diciamo almeno altrettante risorse per la diciamo la sua diffusione la sua diffusione la sua accessibilità la diciamo il percorso che porta ad adottarlo il fatto appunto di poterlo usare con comunità diverse in modalità diverse e cose di questo tipo tra l'altro mi è successo più volte che un gioco fosse inizialmente pensato per un certo tipo di uso ma facendo le prove si è poi rivelato efficace in tutto un altro modo per esempio vi dico un gioco fatto sulla prevenzione del neglect and abuse a un progetto europeo con sugli adolescenti e diciamo i giovani adulti doveva essere usato direttamente dagli assistenti sociali invece poi alla fine sui tablet andando nelle famiglie questo è un progetto inglese per le famiglie di recente immigrazione e invece poi alla fine è stato usato in classe appunto in un uso collettivo per esplorare il tema questo fatto per fortuna avevamo appunto io con cautela abbiamo strutturato in modo che potesse essere usato tecnologicamente in diversi modi però in realtà poi abbiamo dovuto anche modificare l'interfaccia perché un uso collettivo deve sempre permettere di per esempio torniamo indietro esploriamo l'altra strada cosa sarebbe successo se eccetera eccetera ok questo anche può essere un aspetto proprio specifico di giochi applicati molto interessante il caso che vi volevo brevemente illustrare è questo che è un gioco che è risultato molto divertente perché sostanzialmente nel gioco si impersona un assistente IT con perseguitato diciamo dagli impiegati di un ufficio a cui viene chiamato da un desk all'altro perché le cose si rompono la rete non funziona nella stampante non stampa eccetera eccetera e sostanzialmente questo è per la promozione di un'azienda la Helmec una grossa azienda di Varese che fa sostanzialmente supporto soprattutto il Solare di Milano a grandissimi grandissimi reti sostanzialmente hanno il problema che le aziende quando crescono tentano di affrontare questo tipo di problemi sempre con la vecchia tecnologia che loro chiamano la tecnologia Saverio cioè chiamiamo Saverio qua chiamiamo Saverio la chiamiamo Saverio poi mi sembra di cambiare il nome di Saverio perché è il presidente dell'azienda per cui insomma ci avrebbe licenziati cioè lì avrebbe licenziati tutti per cui siamo salvo nel gioco e quindi sostanzialmente abbiamo fatto questo gioco si può giocare su diversi device e però appunto il giocatore può usare due tech inseguire i problemi di qua e di là poi appunto se riesce a risolverli in numero impiegati cresce sempre di più oppure introdurre riforme strutturali riforme strutturali costano ovviamente ti mettono in un momento di difficoltà perché non stai risolvendo alla quotidianità in ogni momento però poi dopo ne guadagni questo è un classico meccanismo di feedback che c'è in tutti i videogiochi che funzionano rischio da un lato guadagno dall'altro ok se funziona se non funziona è il disastro questo gioco è stato portato in tutta Italia da loro e diciamo facendo appunto delle aule tipo queste diviso in due squadre rossi e blu e diciamo in tempo reale i risultati delle due squadre vengono proiettati in un grafo sul proiettore ovviamente i diversi uffici diciamo del gioco mandano i dati in tempo reale sul web e quindi le due squadre vedono chi sta diciamo gestendo il proprio ufficio in modo positivo questo è stato un successo formidabile diciamo questi eventi partecipavano direttori diciamo responsabili di tantissime aziende funzionato benissimo ma ha funzionato benissimo non solo perché il gioco funziona bene diciamo è divertente eccetera eccetera ma perché loro hanno fatto un'attività straordinaria di contestualizzazione dell'esperienza per esempio customizzando tutto lo spazio dentro il quale veniva giocato facendo video promozionali eccetera facendo cose del genere queste sono tutte cose che non abbiamo fatto noi che abbiamo sviluppato il gioco ma che hanno fatto loro facendo appunto tutta una serie pubblicazioni cartacee customizzazioni eccetera eccetera quindi hanno e diciamo il budget allocato a queste attività è sicuramente di gran lunga superiore a quello che è stato necessario proprio per sviluppare il gioco ok il gioco stesso ecco fatto in questo modo può funzionare in modo assolutamente formidabile anche perché avete appunto se vi occupate di marketing questa cosa ha ovviamente automaticamente un riscontro sulla stampa perché una cosa del genere è interessante per un giornalista da coprire scrivere è andato in televisione giornali eccetera ovviamente senza che loro ci dovessero investire quindi questo è l'effetto ovviamente formidabile di questo tipo di iniziative però ovviamente se invece questi non ve li racconto ma mi è successo più volte purtroppo di sviluppare soluzioni di questo tipo tutta l'attività questo purtroppo per esempio nei progetti europei è un problema costante cioè chiunque la berrà su questo cioè due anni di progetto si realizzano tutte le cose e poi le cose sono abbandonate perché i finanziamenti finiscono e si rifà di nuovo questo è un problema proprio strutturale diciamo nel lavoro della tecnologia a livello nell'unione europea strutturale e disastroso ecco tra l'altro forse credo una delle ultime cose di cui vi posso parlare ancora ho 5 minuti c'è proprio un segreto di sopravvivenza di cui volevo parlarvi cioè il fatto e questo anche questo coinvolge un po' tutte le dimensioni della produzione è il fatto che anche se avete tanta esperienza non si fa mai bene alla prima diciamo proprio perché avete tutte queste dimensioni di cui ho parlato la dimensione dell'apprendimento l'interazione con le persone i media gli sviluppi i problemi cambio di idee cambio di piattaforma eccetera eccetera quello che è molto importante questo trasversalmente alla produzione è di essere preparati a questo cioè essere pronti a cambiare ok magari non a stravolgere le cose mantenere le stesse meccaniche però sostanzialmente costruire le cose in modo che possano essere cambiati successivamente per chi diciamo questo ha tutto un significato proprio per chi come me proprio sviluppa software ok software che diciamo non è brittle cioè che non si sfascia diciamo in qualunque cambiamento comporta proprio delle tecniche di sviluppo particolari ma io credo che sia valido un po' per un po' per tutte le dimensioni della produzione quindi ecco sicuramente a livello di pianificazione se riuscite sostanzialmente appunto a mettere dall'inizio avere la consapevolezza che diciamo il processo di completamento del videogioco è tipo alla metà del vostro del vostro gant fantasioso diciamo di processo iniziale sicuramente avete più probabilità di successo diciamo che non mi è mai successo per appunto i casi che purtroppo una minoranza su cui ho lavorato ho fatto in tutto non migliaia una ventina di progetti sono progetti abbastanza impegnativi ecco diciamo quelli di sviluppare questo tipo di soluzioni nei casi in cui sostanzialmente il management ha avuto questo tipo di visione ha sempre funzionato un'altra cosa se riesco a dirla è questa un problema che si pone costantemente è questo che le persone che non lavorano diciamo come in designer spesso che hanno questo vogliono avvicinare questa cosa spesso sono dei videogiocatori ok e come videogiocatori ritengono di essere in quanto bravi a giocare essere bravi nel disegnare videogiochi ok progettare videogiochi i due skill sono non solo diversi ma direi diciamo uno inficia l'altro ok quasi tutti i game designer che conosco non sono dei grandi videogiocatori ok quindi c'è il problema che arrivano con già delle idee di game design queste idee sono penose in genere perché appunto loro ritengono le siano di grande originalità ma sappiate che qualunque game designer che ha un po' di esperienza qualsiasi gioco se lo guardi con la lente delle meccaniche è assolutamente diciamo noto i pattern sono pochissimi qualunque gioco mi facciate vedere di grande idee grande novità se lo analizzi dal punto di vista delle meccaniche sono notissime da secoli sono sempre le stesse ok cioè i giochi non è che funzionano perché la meccanica è originale funzionano perché tutto ciò che sta intorno alla meccanica può essere originale ok quindi diciamo queste idee in genere non solo valgono zero sono proprio dannose quindi la cosa migliore in quel caso è cercare di spostare il focus del cliente che dove invece c'è veramente il valore cioè spostarlo da appunto diciamo voler fare lui il game designer a invece fornire il suo sapere in una forma che è formalizzabile nel processo del sviluppo del gioco questa è la cosa importante quindi trovare gli atomi di conoscenza poi ricombinabili quindi poi tutto si riconduce alla fine a degli spreadsheet in cui è rappresentato il suo sapere specifico è quello che lui vuole esprimere con il gioco magari poi sviluppando le metriche sviluppando le regole quindi quando è che le cose migliorano quando è che le cose peggiorano ecco lavorare col cliente su questo invece questo è assolutamente fondamentale nel processo quindi avere un universo atomico e ricombinabile con delle metriche diciamo su cui poi si può sviluppare una qualsiasi meccanica di gioco e va bene siamo arrivati non credo di aver detto le cose più fondamentali che volevo dirvi che se le slides sono appunto questo è un esempio di di un excel con appunto dati che diciamo su cui si può definire un gioco rendetevi conto che lo spazio combinatorio necessario per giocare deve essere abbastanza grande perché se ho soltanto tre decisioni da fare da poter prendere non è che mi basta per un'esperienza di gioco e deve durare due ore ok ci vuole uno spazio combinatorio ricco diciamo sicuramente tramite gli organizzatori vi darò sarà condiviso il link delle slide dove ci sono appunto ho toccato tanti temi c'è una vasta letteratura sappiatelo diciamo che sui giochi applicati c'è una sterminata letteratura non è che cosa deve leggere tutta però diciamo se ci vuole non farebbe male diciamo approfondire un po' quello ho cercato di dirvi in in 35 minuti so c'è qualche minuto per qualche domanda forse si sente salve quanto è importante l'interattività di un gioco nel nel processo di gamification ovvero ad esempio mi viene in mente l'esempio di Opower un'azienda americana di forniture di energia elettrica che semplicemente si basa tutto sul raccogliere dati statistici sui tuoi consumi e metterli a confronto con familiari amici e altro ecco diciamo questo quell'esempio che hai fatto non è non è un gioco nel senso di cui ho parlato io ok quindi diciamo è un è un'esperienza playful che si può fare o non fare però ti voglio dire che comunque ormai diciamo ci sono tante a bassissima interattività ok ma che risultano delle esperienze interessantissime ok cioè i cosiddetti walking simulator che sono anche dei grandi successi commerciali cioè ci sono giochi in cui semplicemente sono fatti semplicemente una passeggiata una lunga passeggiata se fatta bene può essere un'esperienza straordinaria anche questa quindi diciamo tutti i mezzi vanno bene basta arrivare al risultato allora guarda una cosa che è vedere un esempio allora allora potrei parlarvi di un esempio un po' legato a questo è un'applicazione che abbiamo fatto perché è un po' limite diciamo il fatto di averla fatto col ministero italiano delle attività produttive ok quindi clienti improbabili e invece almeno fino a qualche mese fa molto illuminato diciamo che sostanzialmente ha finanziato un tema anche questo appunto cioè non c'è rapporto tra la serietà del tema e il fatto di usare un gioco in questo caso il tema è la sicurezza delle piattaforme offshore ok quindi cioè il processo di estrazione di gas e metano non credo di averlo qua il processo però se l'andate sulla mia pagina di games non solo ci sono diciamo elencati i progetti ma sono giocabili cioè voi potete se cercate Pietro Polsinelli trovate la pagina games ci sono i giochi scaricabili giocabili non tutti ma quasi tutti sono scaricabili potete provare in particolare questo gioco è interessante perché appunto la tematica della come il ministero lavora per far sì che il lavoro che di per sé è pericolosissimo ovviamente lavorare in mare aperto col gas che esce il petrolio eccetera eccetera sia invece un processo abbastanza sicuro ok ormai ok questo per sé tema non è che sia proprio facilissimo né divertente però invece in realtà è divertentissimo cioè tu hai tutte queste piattaforme sul tuo tattile cominci a gestire la sicurezza dove investi le procedure impari il tipo di vestiti piccoli sottomarini per controllare tutte cose vere c'hai gli elicotteri la marina con gli elicotteri ogni tanto fai ispezioni sulle piattaforme eccetera 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 già penso che uno comincia a sentire che certo in realtà potrebbe essere un gioco abbastanza divertente e questo è un modo ovviamente in cui una cosa assolutamente improbabile tu cominci a capire ah però forse non è che sia proprio così banale informare informare le persone sul tipo di lavoro che si sta facendo ok classico lavoro d'agenzia invece di fare la brochure diciamo che ovviamente la brochure è impossibile che qualcuno ti legga una brochure sulla sicurezza delle piattaforme chi è che si può interessare di una cosa del genere ok quindi o fai un grande sforzo di questo tipo oppure è difficile quindi questo è un esempio in cui questo mezzo può aiutare veramente tanto anche perché c'è una complessità capito cioè proprio più complesso il tema più questo mezzo è a vantaggi rispetto agli altri grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti